Grazie a tutti, vedremo di essere rapidi ed esaustivi per spiegarvi perché a giudizio nostro e dei documenti soprattutto il Presidente Conte ha commesso un atto gravissimo ai danni del popolo italiano, un attentato ai danni del popolo italiano e quindi introduciamo magari partendo dai protagonisti che hanno seguito nei mesi scorsi la vicenda improntata sempre al no da parte della Lega, Claudio Borghi, Presidente della Commissione di Bilancio, se ricordi prima che i colleghi giornalisti a me stesso di quanti soldi stiamo parlando e di quali rischi stiamo correndo e poi da Giancarlo, Alberto, Riccardo, Massimiliano ricordiamo tutti i no della Lega e tutti i silenzi di Conte che adesso si spiegano, chissà che cosa ha ottenuto in cambio e poi arriviamo alle determinazioni finali della Lega. Claudio, se ci ricordi di che cosa stiamo parlando? Sì, allora stiamo parlando del totale ammontare del nostro debito pubblico.